Stiamo molto bene, la verdad che mi hanno ricevuto di meraviglia, mi stanno facendo sentire molto comodo, quindi sono molto contento di stare qui. L'avventura mondiale fa l'avventura mondiale per l'aiuto che gli sta dando in questi primi giorni di avventura al Genoa. Certo c'è un Diego Milito da far dimenticare i tifosi, ma questo ragazzo semplice con l'hobby del basket non ha paura, anche se confessa, di non voler la maglia numero 22. E' difficile ugualare ovviamente lo che hizo Diego perché aca le fanno molto bene. E se lui farà adesso meglio, che Milito ha fatto grandissime cose, che è molto difficile fare le stesse cose, che lui farà adesso meglio per accontentare a tutti i tifosi. E' una felicità a tutti i tifosi.